Oh, ok, e infatti buon momento che ci parleremo dei video e di più adeguata? Ah, ah!!!! Fa lo meno! Un momento non ci sono 4 punti! Ma basta! Eh sì! Ok, allora, se per forza in via vi contendete un po', vi siete andremo al parco, diciamo, per arcomendo, e l'argomento viene presentato proprio con un grado in quale sto imparando